Il presidente Marsilio deve spiegare agli abruzzesi chi rappresenta quando va a sedersi ai tavoli con il governo nazionale. Lui è stato l'unico ad esprimersi contro il super green pass che ha trovato il favore di tutti gli altri presidenti di regione, che è stato votato in Consiglio dei Ministri anche da Lega e da Forza Italia, per cui io non comprendo, noi non comprendiamo chi rappresenti Marco Marsilio quando va a sedersi a quei tavoli. Rappresenta l'Abruzzo? Rappresenta la sua maggioranza? Siamo certi che rappresenti la sua maggioranza? O rappresenta soltanto Fratelli d'Italia e il suo capo politico Giorgia Meloni?